Apre alle otto, non alle sette e cinquantacinque, perciò che vi lagnate? Che c'è, Salmayek? E fatemi vedere le tessere quando entrate. Brisidbardò? Brisidbardò? Ti prendo appuntamento con i servizi sociali, d'accordo? D'accordo. Le coccolate troppo, per questo tornano da voi. Solo il 4% delle donne che avete accolto si è reinserito. Non possiamo continuare a spendere senza risultati. Che combinate? Lo aggiustiamo. Chantal può fare delle riparazioni e anche le altre sanno fare qualcosa. Può essere un modo per aiutarle. Facevo l'infermiera. Io ho lavorato in un'agenzia immobiliare. Quanto ci sei rimasta? Un giorno. Beh, sono 24 ore, non è poco. Vi confronterete col mondo del lavoro. Ho 56 anni, mi chiamo Lady Di. No, non ti chiami Lady Di? Per caso sei Lady Di? No. Allora usa il tuo vero nome. Riparo elettrodomestici. Ho imparato in prigione, perché ho ucciso mio marito. No, aspetta, Chantal. Non dico bugie. Ville, invece. Audrey non dice che ha un problema con gli uomini. No, scusa, io non ho nessun problema con gli uomini. Ecco, ora Audrey sta mentendo. E non importa. Le lampade le porto da casa mia. Come fanno ad essere autonome se le imbocchia addirittura? Non hai visto il loro sguardo? La speranza che è ritornata? Come sono belle, come sono motivate ora? Per Lady Di è la più brutta e trova un uomo. Mica male il tibetano.